Musica Un super salutone da Fatti Più Là 2021 ai nostri signori che ci guardano da casa e stiamo qui precisamente a caseificio Santa Croce con i titolari Mara e Filippo Santa Croce che è Mara in croce che ci hanno sposati. Lui è la mia croce. Come ben sapete Andrea è la patria della mozzarella, della burrata e tante specialità ma proprio per questo ora ci spiegheranno le loro specialità. Ma noi abbiamo tante, innanzitutto tutte le specialità che si trovano ad Andrea noi ce le abbiamo, buonissime naturalmente perché il nostro caseificio è croce e delizia, la delizia sono le mozzarella e la croce è mio merito. Allora la cosa di cui andiamo fieri soprattutto è la filiata, la filiata è la filiata, è vero la filiata? Sì abbiamo fatto un sacco di figli perché non c'era la televisione prima. Perché c'entra? Stiamo parlando del nostro prodotto culinario, la buonissima filiata, la burrata. Quella filiata. Ecco la burrata con dentro tutte le mozzarelli, le ciliegine piccole prima che è un sacco. Per le ciliegine dovete aspettare a maggio però poi ne vale la pena. Ah sanda pazienza. Beh come vedete sono sempre simpatici i nostri signori. Beh allora oltre a questa filiata che voi ti hai già precipitato nel spiegarci appunto di che cosa si tratta ma non solo abbiamo caciocavallo, abbiamo pecorino, parmigiano insomma abbiamo un po' di tutto insomma. Tutto, tutto, e naturalmente le mozzarelle, tutto, tutto, tutto quello che c'è, il nodino, quello grosso, quello piccolo, il nodo scorsoio che farei a mio marito, tutto, tutto abbiamo. Poi gli spari che potete fare a Capodanno, venite da noi che c'è. Sanda pazienza. Sanda croce, quante volte? E proprio per questo Santa Croce, zona croci e che dire i nostri signori di Sansonne con la signora Mara e il signor Filippo, 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 è il caso di dire che è tutta una croce. Ti aspettiamo. E pure a Barletta, ancora fate che venite ad Andrea e non venite a Barletta, se vi trovate a Barletta, venite a Barletta, poi venite pure ad Andrea. Senti fate Barletta a Andrea, Andrea Barletta, Barletta a Andrea. Ah Don che croce. Tanto la mozzarella, la burrata e tutte le loro specialità sono le stesse.